Alla sbarra con l'accusa pesantissima di omicidio c'è un ragazzo molto giovane, oggi 18enne ma ancora minorenne all'epoca dei fatti. La sua confessione risale a quando venne fermato qualche settimana dopo, quel 26 aprile dell'anno scorso, in cui l'imprenditore 46enne Massimo Pandolfo venne ucciso con 40 coltellate e trovato sfigurato fra le sterpaglie di acqua dei corsari. Il giovane, allora 17enne, aveva ammesso dapprima di essere stato l'autore dell'elitto e fu proprio dalle sue telefonate, fra l'altro, che gli investigatori scoprirono il coinvolgimento nel giro di prostituzione omosessuale di Donaldo Nuvola, che proprio per questo finì in carcere. Poi però il 17enne aveva ritrattato, smentendo di aver partecipato al delitto. A scagionarlo, anche le dichiarazioni degli altri due uomini arrestati in un secondo momento per lo stesso omicidio, Giuseppe Managò e Giuseppe Pollicino. E sarebbe proprio quest'ultimo, a sua volta Reo confesso, a confermare agli investigatori l'estraneità del minorenne all'omicidio di Pandolfo, Le due versioni hanno solo un elemento in comune, il contesto e il movente in cui il delitto sarebbe maturato, quello di incontri omosessuali a pagamento in cui Pandolfo era coinvolto. Anche Pollicino, infatti, ha riferito di un appuntamento a luci rosse con l'imprenditore ad Acqua dei Corsari e di una aggressione scattata per una prestazione sessuale pretesa da Pandolfo. Infine, anche i sopralluoghi del RIS hanno escluso che vi fossero tracce della presenza del minorenne sul luogo del delitto. Nonostante questo, il giovane è stato rinviato a giudizio e alla prima udienza e lui a figurare come imputato. Le analisi scientifiche però sono ancora in corso e non è escluso che, a processo iniziato, possano riservare sorprese.